Eccomi qui. Sì, in teoria è questa la scuola. Però preferisco aspettare l'una, non mi va di entrare da sola. Oh, eccola là, per fortuna. Oh, ehi, ciao, sei già qui? Eh, sì, sono venuta un po' presto, visto che è il mio primo giorno. Entriamo insieme? Sì, comunque, mi sono accorta che l'altro giorno non ci siamo presentate. Piacere, io sono l'una. Oh, giusto, com'è potuto passarmi di mente? Piacere, io sono Stella. Wow, i nostri nomi stanno bene insieme. Già, Stella e l'una, che combinazione. Dai, adesso entriamo che se no facciamo tardi. Sì, ok. Ecco, vedi, ecco, qui c'è il corridoio del primo piano. Fisto, tutta arancio, molto, molto allegra. Per fortuna gli armadietti sono blu, sono abbastanza belli. Mmm, wow, sì, carina, carina. Ok, lì, vabbè, c'è gente anche più piccola, ovviamente. Sì, ok. Ok, finalmente l'aromadietto è a posto. Oh, c'è Luna. Ma chi è quella ragazza? Boh, vado a vedere. Oh, l'ha adorato. Non vedo l'ora che venga la stagione 2. Ehi, Luna. Oh, ciao, Sabrina. Ciao, buongiorno. Come va e chi è questa ragazza con cui parli? Oh, piacere, io sono Stella. Oh, ciao, io sono Sabrina. Sono la sua migliore amica. Ehm, sì, è la mia migliore amica. Oh, sì, bene, bene. Oggi abbiamo la verifica di storia, perché non vai un po' a ripassare in biblioteca prima che inizi la lezione? Oh, giusto, me ne ero scordata. Vieni con me? Ehm, no, scusa, devo finire di far vedere la scuola a lei. Va bene, allora ci vediamo dopo in classe. Ehm, scusa se te lo dico, Luna, ma seriamente sei amica di quella... ...zucchero filato? Ma è lei che a inizio scuola si è proposta di essere mia amica, perché io volevo stare da sola, ovviamente. Oh, sì, anch'io. Ehm, beh, niente, adesso mi sta sempre dietro. Però non è male, sì, è diversa da me, ma... ...è simpatica, mi aiuta sempre. Ok, contenta tu. Comunque, mi fai vedere il secondo piano della scuola? Certo, vieni. Eccomi. Ah, ah, che corsa ma do. Ehi, ciao ragazzi. Nana, finalmente, sei di nuovo in ritardo. Lo so, ma la sveglia è suonata tardi e... ...ci ho messo un po' di tempo a farmi le code e vestirmi e truccarmi. Però eccomi, sono qui, non sono ancora iniziate le lezioni. Vabbè, ma almeno prima delle lezioni possiamo passare un po' di tempo insieme, visto che poi... ...cioè, comunque in classe è noioso, ecco. Eh, già. Vabbè, vabbè, che ne dite? Per farmi perdonare, vi va oggi di venire a casa mia? Ci divertiamo un po', eh? Un po' che non venite a casa mia. Eh, sì, certo, io vengo volentieri. Cioè, non so, tu sei già andata a casa sua? Eh, no, io non sono mai andata a casa tua. Siamo sempre andati in giro o nei bar, roba del genere. Ah, bene, allora ti farò vedere la mia camera, sono sicura che ti piacerà. Dai, ora andiamo in classe, non voglio fare tardi. Nel pomeriggio a casa di Nana? Ah, che bello, oggi è un po' di divertimento. E non vedo l'ora di far vedere la mia stanza a Melanie. Scommetto che anche lei piace il rosa. Nana, sono arrivati i tuoi amici! Arrivo! Eccovi, sì. Prego, entrate pure. Bene, a Alex sai già come la mia stanza. Ecco, Melanie, questa è la mia stanza. Ti piace? Oh, wow, è rosa! Anch'io adoro rosa, anche se mi piace il giallo e l'azzurro, però molto bella. Sì, già, già, a parte che c'è un po' di disordine, ma vabbè. E non è vero, Ale. Comunque, che cosa facciamo oggi? Pensavo di guardare un film, vi va? Oh, sì, per me va bene. Sì, va bene. Poco dopo. Ah, è stata davvero un'ottima idea rubare il computer a mia sorella. Sei sicura che non si arrabbierà? Ma tanto non lo verrà mai a sapere, è uscita, quindi dai, divertiamoci. Sì, non credo lo verrà mai a sapere, dai. Però molto bello questo film. Già, molto bello. Wow, il film è stato divertentissimo. Soprattutto la parte in cui il lupo sbrana la persona, che bello. O quando vanno nel cimitero, madò, che emozione. Veramente, quelle sono le parti in cui sono morta più di paura. In generale, il film non è che mi è piaciuto molto, però l'hanno scelto in due. Io ero da sola, quindi vince la maggioranza. Comunque, sì, è stato interessante. Che cosa facciamo adesso? Sinceramente, se è fatto tardi, io dovrei tornare a casa. Oh, allora vai pure. Luna, torniamo a casa insieme? Io pensavo di riaccompagnare Stella, perché la nostra strada comba. C'è invece la nostra, no, quindi noi andiamo. Ci vediamo domani. Sì, ciao, a domani. Ma, ma come? Ciao. Calma. Ok, sì, ha trovato un'amica come lei. E tu sei diversa, ma non vuol dire che non sia più la tua migliore amica. Sì, dai, staremo tutte e tre amiche. Anche se non è che mi piace tanto quella stella, però me lo farò andare bene. Lo faccio per l'una. Stelline, l'episodio finisce qui. Iscrivetevi al canale, perché dobbiamo arrivare a 1000 iscritti per fare le live. Lasciate le like al video se vi è piaciuto. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Andate a vedere il video di New Doll City di ieri, che è stato molto bello. C'è una cosa molto bella, che non so se l'avete visto, che... Vabbè, spoiler, c'è Avatar World.